Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parleremo di due delle polemiche più calde degli ultimi giorni nel mondo del gaming. Una polemica sarà verde e una polemica sarà blu. Ma di cosa stanno parlando? La polemica verde è quella ovviamente di Xbox, ambito Xbox, e di Hellblade 2 e dei 30 fps di Hellblade 2 su console, ennesimo gioco locato a 30 fps su console di generazione corrente e parzialmente anche del fatto che per molti, il fatto che durerà poco, per sorpresa di nessuno, dato che anche il primo durava non tantissime ore, circa 6-8 ore, ecco per qualcuno è un problema. Dopodiché parleremo di un'altra bella polemica, polemica blu, riguardante PlayStation e riguardante Stellar Blade e ovviamente le forme di Eve, il sessismo, il femminismo e ovviamente un modello, un caratter design che a qualcuno non piace. Perché oh mio Dio è troppo procace, quale insulto al genere femminile. Ma partiamo dal team verde Xbox e quindi questa volta è una polemica tecnica, come detto. Ennesimo gioco, ormai ho perso il conto dei giochi che stanno uscendo per console bloccati a 30 fps. Hellblade 2, gioco seguito di Hellblade, il primo, molto hypato, in particolare insomma dal marketing di Xbox. Da tanti anni oserei dire, da quando è stata presentata la console Xbox serie XS, credo dal 2019, forse addirittura dall'anno prima, qualcosa del genere. Comunque insomma tanti anni per sviluppare il seguito di Hellblade. Gioco molto particolare già all'epoca del primo, perché munito di un comparto tecnico molto molto di rilievo, con una narrativa molto particolare, dei temi molto particolari anche su problemi mentali, schizofrenia, voci nella testa e cose di questo tipo, con anche delle tecnologie particolari, soprattutto dal punto di vista dell'audio. Diciamo che il primo Hellblade ha fatto parlare di sé parecchio per queste caratteristiche, non tanto per il gameplay, né per il combat system, né per gli enigmi che erano decisamente dimenticabili, ma più che altro proprio per il tipo di narrazione particolare e anche il taglio più cinematografico. Ecco, questo secondo capitolo vuole essere praticamente il primo con gli steroidi. In tutti i trailer di questi ultimi 4-5 anni si sono visti insomma trailer importanti, sia dal punto di vista tecnico in particolare, ma anche di nuove tecnologie adottate, in questo caso più che altro sul capture del volto, delle espressioni e un focus particolare anche rispetto all'attrice appunto che fa Senua, che è la protagonista di Hellblade, sia del primo che del secondo. Insomma, è stato pompato tantissimo come un vero gioco next gen, sia per l'uso delle tecnologie, sia proprio per la resa grafica. Alla luce di tutto questo, mi fa sorridere che adesso scoppi questa polemica da parte di qualcuno sul fatto che il gioco giri effettivamente a soli e 30 fps, perché se è vero che rispetto ad altri giochi usciti negli ultimi anni, insomma, si poteva alzare il sopracciglio ecco perché insomma una generazione attuale nel 2024 che non riesca a tenere in maniera stabile i 60 fps sembra appunto un po' strano, soprattutto se si viene magari da una visione di pc gaming. Per questo progetto in particolare in realtà mi sembrava quasi la normalità il fatto che non riuscisse eventualmente arrivare ai 60 fps in nessun modo. Tra parentesi, il gioco esce anche ovviamente per pc e in quel caso i 60 fps se avrete un pc adeguato li potrete avere. Ma riguardo la specifica polemica di un gioco che basa tutto su essere incredibilmente cinematografico, graficamente superlativo con pazzesche nuove tecnologie di cattura del volto, dell'espressione e tutto quanto, più il reparto sonoro, più ovviamente questo taglio cinematografico, il fatto che appunto sia solo 30 fps onestamente stupisce solo quelli che vogliono fare polemica e un po' di clickbait. Più che altro io mi preoccuperei, dato che non è che si è visto tanto del vero e proprio gameplay combat system enigmi, di questo punto di vista più che dei 30 fps, cioè se non sarà un'evoluzione del primo, perché il primo era abbastanza scarso da questi punti di vista, in realtà potrebbe essere un po' deludente, cioè qualcosa di molto bello esteticamente però poi da giocare ludicamente parlando un po' dimenticabile. Spero di no ovviamente però. In realtà questa è la mia preoccupazione più grossa rispetto a Hellblade 2, non tanto i 30 fps al secondo su console. In tutto questo ovviamente è un gioco presente nel Game Pass, sia su PC Game Pass che ovviamente su console, quindi insomma non so bene queste lamentele veramente perché dovrebbero esserci. E stessa cosa riguardante la durata ragazzi, un gioco come Hellblade, se avete giocato il primo lo sapete benissimo, non ha alcun senso che possa durare 15 ore, 20 ore, 30 ore open world Ubisoft. Buttiamolo sempre in mezzo Ubisoft perché è un meme. È ovvio che un gioco come quello ha senso in una durata limitata, anche perché certi temi magari molto pesanti non li volete perpetrare per decine di ore. Quindi ci sta comunque che sia un'esperienza anche tutto sommato veloce. Ci sono tantissimi giochi, magari un pochino più indie, ma in realtà anche questo ha avuto del budget ma è relativamente AAA a livello di team e tutto quanto. Dico ci sono tanti giochi che anche che durano poco e anche che hanno relativamente poco gameplay ludico che però sono dei gran giochi e molto significativi. Quindi anche volesse essere puramente un gioco narrativo, molto più vicino magari al cinema per dire che al videogioco va benissimo lo stesso. Il mondo dei videogiochi è grandissimo, ci sono giochi per tutti i gusti, quindi che questo gioco duri 5-6 ore e non 20 ore per me è assolutamente ininfluente. Detto ciò passiamo alla parte blu del video, ovvero Stellar Blade, la protagonista, super procace, diciamo così, erede di altri character design interessanti che abbiamo visto negli ultimi anni come quelli di 2B, di Nier o che ne so di Baionetta. E guarda caso effettivamente questo gioco e questo character design arriva da una casa di sviluppo orientale. Perché gli orientali, diciamo così, giapponesi, coreani, non sono stati particolarmente influenzati da questa corrente abbastanza, diciamo, woke, per semplificare, degli ultimi dieci anni, occidentale, che ha abbastanza downgradato l'aspetto fisico in generale del character design di tutti i generi, cioè non solo quelli femminili ma anche quelli maschili, rendendoli molto più realistici, più vicini, più, non lo so, facili da potersi rapportare dai giocatori. Questa, insomma, è l'idea degli ultimi dieci anni dei giochi occidentali. Agli orientali non gliene frega un cazzo, principalmente, e quindi continuano a buttare fuori modelli, ovviamente irrealistici, ma molto fighi e belli, sia per uomini che per donne, sia per modelli femminili che per maschili, ma in particolare per modelli maschili, perché, ragazzi, inutile nasconderlo, la maggior parte dei videogiocatori, insomma, sono comunque maschi e alla maggior parte di maschi piacciono le femmine. Diciamo che è un po' difficile controbattere su questo. E quindi questo modello di Eve, super procacissimo, super incredibile, con un corpo pazzesco, questo sedere impossibile da non notare, questi seni impossibili da non notare, nonché una tecnologia comunque che è stata anche cercata in Stellar Blade, nel senso che c'è un certo giggling, insomma, di tutte queste parti molli ed è fatto apposta, per essere notato chiaramente dai giocatori, nonché il modello in particolare suo di Eve è incredibilmente dettagliato, sia il suo che dei costumi, molto più del resto del gioco, e quindi, insomma, questa è una precisa scelta autoriale degli autori, appunto, di Stellar Blade. E tutto questo è offensivo per il mondo femminile? Evidentemente, per una parte, insomma, del mondo femminile, o comunque delle femministe, sì, è offensivo. Perché? Perché? Onestamente non saprei dirvi perché. Va bene, la risposta è ovvia, perché sessualizza il corpo della donna. Grazie. Ma ragazzi, i corpi in generale, nelle opere di fantasia, che possono essere cinematografiche, oppure appunto videogiochi, ma anche narrative, anche appunto testi scritti, dipinti, da che tempo è tempo, da che si hanno documenti anche rupestri, ha sempre cercato di enfatizzare comunque i tratti fisici di uomini e donne, di maschi e femmine. E per un semplice motivo, ragazzi, a tutti piacciono le cose belle, a tutti piacciono le cose buone da mangiare, a tutti piacciono le cose belle da vedere. Che poi ovviamente il bello sia più personale, da un individuo all'altro, da una cultura all'altra soprattutto, questo è certamente vero, ma in linea di massima a tutti piacciono le cose belle da vedere. E sinceramente non ci trovo veramente nulla di male, anche perché in particolare dal punto di vista dei videogiochi o dei dipinti o dalle illustrazioni, sono opere comunque di pura fantasia, ovviamente sono estremizzazioni, ma non sta scritto nessuna parte che quando si deve rappresentare un corpo debba essere necessariamente ultra realistico. Lo si può fare come non lo si può fare. E a moltissimi piacciono le rappresentazioni anche irrealistiche, estreme. E breaking news non solo agli uomini a cui piacciono le donne, piacciono queste estremizzazioni femminili, ma anche alle stesse donne. Sono sicuro che ci sono un sacco di donne a cui piace vedere altre belle donne. Così come agli uomini piace vedere modelli maschili, magari anche lì, magari, irrealistici, con fisici incredibili. E anche nei videogiochi è pieno, è sempre stato pieno e continuerà a essere pieno, nonostante appunto questa influenza di un certo tipo degli ultimi dieci anni, soprattutto che arriva dagli Stati Uniti. E la questione della rappresentazione, secondo me, anche lì, dal mio punto di vista, lascia un po' il tempo che trova. Soprattutto nelle opere di fantasia, almeno personalmente, io a volte mi sono sentito rappresentato, diciamo così, anche quando ero piccolo magari, da modelli che non c'entravano nulla con me stesso, che ne so. Mi sentivo rappresentato dai robottoni che combattevano nei cartoni animati, mi sentivo rappresentato da Kenshiro, che certamente non era esattamente il mio fisico di quando avevo, che ne so, otto anni. Ma soprattutto, anche quando io adesso gioco i videogiochi e magari posso scegliere, che ne so, in un gioco di ruolo che personaggio creare, io spesso creo un personaggio femminile. E, no, lo so, vi assicuro che non mi identifico come donna nel mondo reale. Semplicemente non ho nessun problema a giocare un gioco anche se la rappresentazione a schermo è femminile, quindi cioè totalmente l'opposto di come sono io. Ora non varrà per tutti, ma secondo me vale per tanti. Quindi onestamente questa rappresentazione del personaggio così eccessivo, dato che tra parentesi il gioco non è neanche un brutto gioco, anzi è un buon gioco, non è per niente becera e volgare, perché comunque è chiaramente un amo per attirare l'attenzione, ma sottostà comunque un gioco di valore. Che poi è la stessa cosa anche per esempi passati, i vari Baionetta, i vari Near, Automata, eccetera eccetera. Ottimi giochi, non erano stati fatti quei character design solo per attirare beceramente l'attenzione di chi sbava dietro a un modello femminile esagerato. Insomma, in parole povere, tutta questa polemica pure l'ho trovata molto stupida becera e banalmente è semplicemente fatta da un certo tipo di ideologie su internet, perché crea rumore, fa click, crea visualizzazioni, eccetera eccetera. Poi vabbè, ho visto anche articoli deliranti, tipo quello di IGN Francia, che forse poi ha anche rettificato e si è anche scusato perché ha sparato dei titoli fuori di testa, ma come detto è più la voglia di attirare l'attenzione, spesso e volentieri, che di far passare un messaggio che abbia un senso. E insomma questi sono i miei due centesi. Non lo so se queste mie opinioni creeranno scandalo oppure no, me ne frega molto poco, ma comunque volevo darvi la mia opinione su entrambi i argomenti. A questo punto la parola passa a voi, ditemi cosa ne pensate di entrambe queste due polemiche calde della settimana e ne discutiamo se volete sotto nei commenti. Io vi ringrazio sempre per l'attenzione, vi supporto, vi auguro sempre di star bene e noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!